Il benvenuto al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Buonasera, benvenuto. Bentrovato. Senta, ma che pensa quando vede tutti questi yacht delle Cayman e la quasi certezza che stanno fregando il fisco? Sentimento proprio un po' quello viscerale, no? Non necessariamente stanno fregando il fisco, forse pensano di fregare il fisco. In realtà i cittadini italiani che hanno barche registrate all'estero comunque sono controllabili dal fisco perché noi incrociamo le informazioni che ci arrivano anche dall'estero per dire guarda è dei cittadini del tuo paese e noi poi incrociamo quelle informazioni con qual è il loro radio dichiarato se può giustificare legittimamente delle bellissime imbarcazioni che peraltro rappresentano un bel cantiere semmai del nostro Stato, perché la cantieristica italiana è una cosa importante. Eh, ma il tema è primo, il controllo viene davvero fatto e secondo, li beccate in castagna o sono tutti innocenti come la croce, come si dice dalle mie parti? Facciamo i nostri controlli e alcuni vengono beccati ma non è un indice di per sé il possesso di un'imbarcazione di questo genere di evasione fiscale. Quindi noi controlliamo se quel cittadino italiano che semmai ha un'imbarcazione battente e bandiera di un paese estero ha un reddito che possa giustificare l'acquisto e la gestione e la manutenzione di quell'imbarcazione. Se non lo ha, a quel punto viene assoggettato a controllo e ad accertamente al recupero dell'evasione fiscale. E poi soprattutto, essendo intestati a nazioni estere, ci sono tutti i giochi, diciamo, di società, no? C'è uno scambio di informazioni, calcoli che gli ultimi dati che abbiamo noi riceviamo dati da circa 100 paesi all'estero l'ultimo dato che abbiamo su conti correnti di cittadini italiani, residenti italiani sono circa 2 milioni di conti correnti di cittadini italiani, residenti in Italia che hanno conti correnti all'estero, ma non li controlliamo. Senta, ma che trucchi usano oggi principalmente gli evasori? Allora, trucchi è difficile anche, io ho fatto per più di 20 anni l'avvocato tributarista non ho mai suggerito un trucco e certamente non li svelerei adesso che sono direttore dell'Agenzia delle Entrate. Diciamo che il nostro sistema è un sistema talmente complesso con una legislazione talmente confusa e poco chiara che lascia tanti spazi d'ombra dove ci si può nascondere. Noi abbiamo più di 800 leggi in Italia, abbiamo un testo unico sulle imposte sui redditi. Ci sono talmente tante leggi che perfino io a un certo punto non le conosco tutte. Non perfino io, non sono nessuno. Io non conosco nessuno, né all'interno dell'Agenzia delle Entrate, né a livello accademico, né a livello professionale che possa dire conosco il fisco. Calco il testo unico sull'imposto sul reddito e dell'86 ha subito 1200 modifiche. E tutte quante hanno dovuto essere studiate, applicate, interpretate. Queste modifiche che si fanno, si fanno per aiutare gli evasori a evadere meglio o per cercare di fregarli? Perché a un certo punto nasce il dubbio, no? Allora, sono modifiche che vengono fatte nel corso degli anni e sono giustificate anche dal mondo che cambia e con esso anche la legislazione e anche il legislatore cambiano nel corso degli anni. Diciamo che ormai il sistema è arrivato a un livello di stratificazione tale che a volte la pezza è peggio del buco. Ecco, in Italia si parla molto, in questi ultimi anni va molto in voga l'espressione fisco amico, no? Ma non servirebbe principalmente un fisco severo con chi evade? Allora, fisco amico è un'espressione che non mi ha mai trovato particolarmente favorevole. Però è molto utilizzata, no? Molto utilizzata. Dalla politica, diciamo. Secondo me, impropriamente, se posso permettermi, perché viva Dio, gli amici ce li possiamo scegliere. E devo dire, mi guardi negli occhi, lei sceglierebbe il fisco con amico? Io no, faccio questo di mestiere. Manco prima, quando facevo l'avvocato, gli amici me li scelgo, una cerchia stretta. Ma gli amici con lei hanno comportamenti particolarmente furtivi, diciamo, cercano di rivelare il meno possibile? No, assolutamente. Ho amici che ritengo leali e comunque poi non è che li vada a controllare. Nel senso che non sta a me controllarli, sta ai funzionari dell'Agenzia di Entrata. Il fisco non deve essere neanche severo, cioè nel senso che il fisco deve essere giusto, applicare le norme. Io come cittadino, prima ancora come direttore, mi aspetto che l'Agenzia di Entrata e il fisco, sia un fisco che appichi le norme che il Paese si è dato, in maniera trasparente e corretta. Ma lì torniamo al problema di prima. Se le norme non sono trasparenti, non sono trasparenti per il cittadino leale, non sono trasparenti per il cittadino sleale, non sono trasparenti neanche per l'Agenzia di Entrata. E da lì si crea il problema dell'evasione fiscale. Però l'Italia è veramente un paese strano, perché è un paese in cui l'Agenzia delle Entrate che lei dirige viene vista e descritta da tanti come una sorta di gestapo, di incursore nei fatti degli altri, di ente che viola la privacy, che sevizia i cittadini. Dall'altra parte l'Italia è il paese che evade di più, credo, in Europa, dove c'è l'evasione più alta in Europa. Com'è possibile che abbiamo un fisco così rapace da una parte e un'evasione così alta dall'altra? Non la trovo una contraddizione questa? Parto da alcuni spunti che mi offre, molto velocemente. Non c'è un filamento DNA dell'italiano, che è un maggiore pascolo rispetto agli altri concittadini europei. C'è un elevato attasso di evasione fiscale, ed è di questi giorni la pubblicazione dei dati del Ministero delle Comunità e delle Finanze sul livello di evasione fiscale in Italia, che però dobbiamo anche riconoscere che sta scendendo. Il che non può dire che l'abbiamo sconfitta, ma che la politica del legislatore e l'attività dell'Agenzia di Entrata, della Guardia di Finanza, degli ultimi anni, stanno dando dei risultati, perché scende progressivamente il tasso di livello del tax gap, dell'evasione fiscale, ma la cosa a cui tengo di più non è tanto se il livello di evasione fiscale scenda, perché l'evasione fiscale è il male, nel senso che è comunque un risultato che dovremmo azzenare. La cosa più importante è che aumenta l'adempimento spontaneo dei contribuenti. Ormai siamo arrivati a oltre 400 miliardi, 430 miliardi. E questo da che cosa dipende? Da una maggiore semplificazione che è entrata... Da un complesso di meccanismi e di situazioni che ha portato il contribuente ad essere sempre maggiormente leale tutta una serie di strumenti che sono stati introdotti dalla dichiarazione precompilata alla fatturazione elettronica. Ricordiamo che la fatturazione elettronica quando è stata introdotta ha incontrato molte resistenze. Vi sta portando grandi vantaggi. Perché la fatturazione elettronica porta meno evasione? Me lo spiega? Assolutamente sì. Fino alla fatturazione elettronica io avevo, da bravo professionista, ho fatto l'avvocato per vent'anni era una partita IVA io prendevo il mio blocchetto delle fatture la compilavo a mano col computer stava alla mia lealtà fiscale compilare quel blocchetto nel momento in cui ritenevo di averlo compilare. La fatturazione elettronica invece impone di compilare i campi di un sistema che è intercettato subito dall'agenzia di entrate quando si rende il servizio o si vende il bene. Non si può aspettare il 31 dicembre per sistemare i dati della propria attività. Questo ha comportato... Però uno può continuare a non fare la fattura come non la faceva prima e il cliente a non chiederla. Assolutamente sì però tendenzialmente ci si mette di... non si giustifica neanche la titolare di una partita IVA. Tu hai una partita IVA cioè se tu sei economia sommersa ma a quel punto... Questo valeva pure con quelle scritte. In realtà con la fattura elettronica diciamo che tu devi... se la fai la devi fare in quel momento preciso. Difficilmente un evasore fiscale rinuncia a dedursi le proprie spese. Per dedursi le proprie spese devi poter dedurre le fatture messe da qualcun altro. Nella filiera c'è qualcuno che mette una fattura. Non è una banda bassotti generalizzata, degli evasori... Quindi è più facile beccare poi quelli che non lo fanno. Assolutamente. abbiamo recuperato svariati miliardi e anche quest'anno li continuiamo a... Senta, ma con questa storia non solo degli scudi fiscali che a mio parere ma dico una mia opinione sono uno scandalo per tutti quelli che pagano regolarmente le tasse ma anche con questa storia della rottamazione delle cartelle, no? Non si è esagerato? Non si è dato un segnale per anni e anni al cittadino tra condoni, scudi fiscali rottamazione delle cartelle che alla fine se tu non pagavi venivi comunque perdonato? Allora, sicuramente intanto bisogna distinguere tra i condoni e le rottamazioni però il principio alla fine è sempre che tu paghi meno di quello che dovevi oppure che non ti faccio pagare proprio In realtà no perché la rottamazione ti impone di pagare tutto il tuo debito nei confronti della collettività del fisco ti sconto gli interessi e le sanzioni che si sono maturate nel collettività Sei perdonato sul fatto che hai pagato dopo e quindi è diverso dal trattamento di chi invece ha dovuto pagare quelle sanzioni quindi si è dato un premio a chi ha pagato più tardi rispetto a chi ha pagato in tempo Pagare il dovuto non è proprio un premio Diciamo che lo Stato ha riconosciuto una difficoltà del sistema di recuperare certe somme ha recuperato somme alla collettività rimettendole in circolo e comunque ha consentito il pagamento integrale di quei debiti I condoni sono un'altra cosa da qualche anno che non vengono approvati Senta, siamo in piano Covid no? Quante entrate in meno registrate? Sono state registrate delle entrate in meno relativamente all'anno di 2020 però aspetterei anche la fine dell'anno per tirare le somme anche per un po' di ottimismo che dobbiamo comunque riservare nei confronti del nostro paese e la situazione che ha attraversato quest'anno speriamo che si riprenda sempre di più chiaramente bisogna vedere la finestra temporale del pieno lockdown ha una sua espressione ha un suo valore mano a mano siamo usciti da quella finestra e l'attività per molti ambiti ha ripreso pienamente e anche meglio Quindi lei non è pessimista? Penso ci sarà una flessione però aspettiamo la fine dell'anno io mi auguro che questa flessione diminuisca e possa essere tendenzialmente portata vicino Senta, ma è giusto far pagare le tasse sull'anno scorso a chi oggi non ha incassato niente per il 2020? Questo è il vecchio problema del mancato allineamento del calendario fiscale dal calendario che viviamo tutti qua Però in questo caso diventa devastante Il problema è anche però di dover recuperare le risorse perché noi stiamo qui in un paese che garantisce perché poi semmai alti servizi in altre occasioni farete o avrete fatto mancanza di risorse alla sanità pubblica Certo E quelle risorse alla sanità pubblica viene pagate i soldi non ce li ha per pagare le tasse sul 2019 come fa? In questo anno credo che sono state introdotte varie norme che hanno consentito una dilazione uno spostamento in avanti dei debiti Tanti contribuenti e imprenditori dicono che non è una dilazione sufficiente per la botta che hanno ricevuto questo è un problema per cui tante persone non pagheranno le tasse per questo E questo è un qualcosa che si vedrà a fine anno però in molti posso garantirle che al di là di alcune prese di posizione che poi bisogna andare a vedere caso per caso a me ha colpito che ad esempio che oltre il 60% dei contribuenti che hanno orate in corso con il fisco ha continuato a pagare non tanto quest'anno ma durante il periodo in cui il legislatore gli ha detto potete non pagare e loro hanno continuato a pagare Senta e questi dovreste premiare Ma questi sono quelli che lei voleva punire perché sono quelli che semmai hanno orate in corso per mancati pagamenti negli anni precedenti il percorso del convincimento del contribuente le tasse No io intendevo dire scusi che voi dovreste premiare coloro che hanno pagato in tempo anche se hanno la possibilità di spostare in avanti il pagamento Sono entrambi le categorie di soggetti però è importante noi parliamo di tasse in realtà il corretto nome con cui vengono definite sono imposte però in realtà è il nome più sbagliato perché nella Costituzione non viene mai definito come imposta perché quella è un'azione che verrebbe ha una caratteristica di coercizione ma la Costituzione dice che nessuna stazione patrimoniale può essere imposta quindi dice il negativo Beh ho capito però insomma se uno non paga ti vengono a portare via la casa è un contributo diciamo che come dire si fanno rispettare ma c'è stato un periodo me lo ricordo bene che era il periodo del governo Monti dei blitz si ricorda Cortina d'Ampezzo se tu passavi con la Ferrari ti fermavano molto più spesso per esempio la guardia di finanza ti controllavano secondo lei quel sistema lì che era un sistema che insomma fece discutere fece un po' di terrore è efficace come sistema diciamo di deterrenza? Io credo che al di là del blitz e la dimostrazione sono i dati proprio di questi giorni e anche di recupero maggiore dell'evasione fiscale che si è avuta in questi anni è un costante dialogo e di educazione civica del cittadino Quindi secondo lei i blitz non servono? Io penso che il fisco la guardia di finanza agenzia entrata abbiano il dovere di colpire chi si sottrae dall'obbligo di lealtà nei confronti della collettività e mai come quest'anno dovrebbe essere sentito dai cittadini Sì però vede il tema è io mi metto fuori da caselle autostradali e fermo tutti quelli che hanno i macchinoni oppure mi metto sul terminale e cerco di capire i movimenti i flussi di denaro e cerco di andare più in profondità Bisogna capire visto che mi parla di casella autostradale utilizzo un'immagine che ogni tanto tiro fuori bisogna capire cosa porta maggiori risultati in una rete autostradale porta maggiori risultati l'autovelox o il tutor o meglio ai fini del benessere collettivo è più importante che il tutor ci induca tutti a rispettare il codice della strada e rispettare i limiti di velocità viaggiando in sicurezza o che ciascuno continui a fare quello che vuole e viene sanzionato in continuazione con l'autovelox io penso che servano entrambe le cose serve il tutor per indurci ad essere degli ottimi guidatori in sicurezza e quindi dei bravi contribuenti dopodiché se qualcuno si sottrae al dovere di realtà io ho il dovere di sanzionarli come il legislatore mi chiede di sanzionarli avrebbe bisogno di più persone che all'agenzia di entrate per fare i controlli per indagare negli ultimi otto anni l'agenzia di entrate ha diminuito il numero dei propri funzionari di circa 8 mila unità un'enormità però il problema è anche lì è covo e si vuole concepire il fisco noi siamo 40 milioni di contribuenti e 6 milioni di partite IVA il miglior modo per fare in modo che tutti facciano sarebbero 40 milioni di agenti del fisco ora è evidente che non è possibile sarebbe uno stato di polizia fiscale insostenibile bisogna anche lì organizzare sfruttando la tecnologia nel migliore dei modi le risorse che abbiamo ma anche integrare il personale dell'agenzia abbiamo avuto percentori del reddito di cittadinanza che avevano in realtà alti redditi di macchinoni è difficile controllare chi frega sul reddito di cittadinanza? questi sono dati di altri enti che quindi non sono dati dell'agenzia di entrate quindi non so bene l'incrocio da dove derivi comunque ci sono forme di collaborazione certo è l'Inps che deve fare questi controlli c'è una forma di collaborazione dell'agenzia di entrate dell'Inps però dovremmo verificare perché in agenzie di entrate non ho la contessa di questo è favorevole a mandare in galera gli evasori? allora anche lì è un dato quando si parla di libertà personale sono molto cauto perché è un bene ovviamente conquistato diciamo anche in modo cruento nella nostra storia bisogna distinguere se un cittadino sbaglia e non versa le proprie imposte per un errore complice anche il sistema fiscale che viviamo penso che debba essere aiutato a rimettersi in carreggiata versando quanto deve se un cittadino invece si sottrae al proprio obbligo di realtà privando la nostra collettività di camere di terapia intensiva di scuole in sicurezza di risorsa della protezione civile di soldi per le pensioni penso a quel punto che il legislatore possa scegliere così come ha scelto di sanzionarlo anche privando la libertà personale semmai individuando dei livelli che danneggia la collettività in una maniera danneggia se stesso e questo è un problema di educazione civica noi dovremmo imparare tutti a capire che prima o poi ci si ritorce conto a noi senta prima dicevamo ci sono centinaia e centinaia di leggi fiscali che è un sistema impossibile tant'è vero che forse noi siamo l'unico paese che ha bisogno obbligatoriamente di un commercialista per pagare le tasse perché da solo sarebbe completamente incapace di fare quello che invece appunto i commercialisti fanno e anche loro hanno i capelli dritti quando lo devono fare e lo sa bene perché lei è tributarista però mi dice cosa bisognerebbe fare semplicemente cioè c'è una una riforma che si può fare che semplifichi drasticamente il fisco allora due flash innanzitutto avere un continuo dialogo con i commercialisti e con gli intermediari di questo settore perché ci aiutano a capire dove poter intervenire e senza di loro sarebbe molto più complicato anche gestire la macchina dell'agenzia dell'entrata quindi un riconoscimento al loro lavoro in secondo luogo in questi in questo periodo si fa tanto riferimento al recovery fund se il recovery fund possa essere utilizzato per abbassare la pressione fiscale per ridurre la pressione fiscale io credo che se l'ho occasione per mettere a fuoco cos'è il fisco e cos'è la riforma del fisco la riforma del fisco deve necessariamente essere strutturale e ampia il fisco credo e non perché ci lavoro da un lato dall'altro dalla barricata penso che sia una delle più importanti opere pubbliche del nostro paese perché da quell'opera pubblica da quel cantiere dipendono tutti gli altri è quello che garantisce la possibilità di mettere le risorse a disposizione di tutti gli altri settori se di riforma si deve parlare deve essere una riforma strutturale penso alla giustizia tributaria penso alle agenzie fiscali penso alla riscossione penso alle singole imposte i diritti dei cittadini e i doveri dell'agenzia di entrate invertendo anche un paradigma i doveri dei cittadini e anche quelli dell'agenzia di entrate sono tanti i campi non bisogna focalizzarsi l'importante non bisogna focalizzare l'attenzione solo su numeri aliquote e basi imponibili sono soltanto un pezzo del problema senta l'ultima domanda è un po' come dire a sorpresa però secondo me chiunque veda lei si domanda quali sono i suoi poteri reali lei è uno degli uomini più temuti d'Italia cioè il capo dell'agenzia delle entrate questa faccia ne dubito eh vabbè però insomma una faccia serafica tranquilla e rassicurante però poi non è detto che che non sia duro e diciamo e severo nei suoi comportamenti ma se lei ora volesse potrebbe torna a casa sul suo terminale vedere il mio conto corrente quello che c'è i miei movimenti perché vuole saperlo grazie a Dio no anzi grazie a tutta l'attività che mettiamo in essere noi io non ho nessun potere di verificare la sua posizione e all'interno dell'agenzia di entrata non tutti hanno questa possibilità hanno questa possibilità soltanto quelli che fanno i controlli e non controlli nominativi ma all'esito di controlli preliminari che fanno emergere una situazione di come mai ci sta una come mai dallo Stato estero viene fuori che il contribuente Formiglia ha uno yacht a Decaimann di 50 metri a quel punto non verifica quanto ha dichiarato un milione di euro viva Dio però ecco questo è il punto importante cioè un suo dirigente della sorveglianza non è autorizzato ad entrare nel conto di un cittadino italiano soltanto su base nominativa per controllare cioè deve esiste una serie di regole e rispondono a lei su questo ovviamente a me e tutta quanta l'attività di controllo interno ma anche alla magistratura eventualmente perché poi chiaramente se qualcuno agisse al di fuori di questi limiti pagherebbe le conseguenze ma le dico di più chiunque accede ai dati di qualunque cittadino rimane traccia viene profilato niente rimarrà anonimo quindi si sa che un dipendente ha fatto questa verifica e deve giustificare il motivo di quella verifica comunque le basi dati questo è importante nella legislazione proprio la legge finanziaria del 2020 quindi approvata diciamo 2019 hanno previsto vi sei parlato di conti correnti la anonimizzazione si dice tecnicamente la pseudo anonimizzazione di tutti i dati proprio per evitare che uno possa fare controlli diretti nominativi ma sono dati anonimizzati e quindi vengono lavorati senza sapere dietro i dati chi ci sei grazie direttore ci ha un po' tranquillizzato per questo grazie per essere stato con noi buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti